Leonard Cohen una volta ha detto che la sua vita da Don Giovanni è uno scherzo che l'ha fatto ridere amaramente nelle diecimila notti che ha passato da solo. E questo cosa vuol dire? Vuol come sempre Leonard Cohen che è stato un grandissimo gentiluomo, oltre che un poeta, un grandissimo musicista, ha sempre voluto abbassare il tono, ridimensionare. Qual è che è stata la sua figura di grande amante? Il grande amante è ricambiato da donne bellissime, donne affascinanti che, come è inevitabile con gli artisti, sono finite nelle sue opere d'arte e cioè nelle sue canzoni. Donne raccontate, donne mitiche che sono state le sue muse e che l'hanno attraversato per tutta la sua vita, sempre standogli accanto. Sono stati anni quelli che ha attraversato Leonard Cohen, che lui stesso ha definito generosi, dove gli amori andavano, venivano, ma venivano sempre rispettati. E non c'è meglio, non c'è possibilità migliore di celebrare un amore che con un'opera d'arte, come dicevamo, e quindi con le sue canzoni. E nelle sue canzoni le donne sono donne famose, donne immaginarie e donne reali della sua vita. Quella centrale che analizzeremo nella canzone di di questo appuntamento è Suzanne. Ma non partiremo da lei, partiremo da quella che forse è la donna più famosa cantata da Leonard Cohen. Una donna che non viene chiamata per nome subito, che però ben presto verrà rivelata. La canzone è Chelsea Hotel No. 2, perché esiste una versione 1 che peraltro verrà cantata soltanto in alcune occasioni live. Innanzitutto che cos'è il Chelsea Hotel? Il Chelsea Hotel è un luogo mitico, è un hotel di New York, dove durante gli anni 60 soprattutto risiedevano tutti gli artisti della Grande Mela. Scrittori, poeti, drammaturgi, star disperati in cerca di notorietà, artisti che vanno a progetti che non sarebbero mai andati a buon fine. E Leonard Cohen stesso va a vivere lì. Sono stanze molto grandi, dai soffitti alti, c'è una grande scala centrale. E lì può succedere, succede davvero di tutto. Pensate che una volta il cast di un'opera si trovò per provare all'interno del Chelsea Hotel e quindi c'erano ballerini che danzavano nei corridoi e c'erano gli allestimenti di scena. Se ci fossero addirittura tigre e leoni e fosse un allestimento dell'Aida che giravano appunto per le scale. Lì Leonard Cohen ha una sua stanza, una stanza spartana. Lui ha sempre detto che non avrebbe avuto bisogno di molto nella vita. C'erano due letti e una ritarda e basta. E lui scriveva e componeva. E poi successe qualcosa. Successe qualcosa con una donna che in realtà era molto più famosa di lui all'epoca. E questa donna è Janis Joplin. Janis Joplin però non viene raccontata direttamente nella canzone. Fu lui a dire che si trattava di lei. Quindi direi che magari è meglio leggere un passo per raccontare anche che cos'era quella New York e cos'era il Chelsea Hotel. E la canzone dice mi ricordo di te, mi ricordo bene di te al Chelsea Hotel. Mi parlavi con dolcezza e coraggio e me lo succhiavi nel letto di sfatto, mentre in strada le limusine aspettavano. Poi dice ancora ma sei andata via tesoro, non è così? Hai voltato le spalle alla folla. Sei andata via, non ti ho mai sentito dire ho bisogno di te, non ho bisogno di te o altre cretinate del genere. Mi ricordo bene di te al Chelsea Hotel. Eri famosa e il tuo cuore era una leggenda. Mi ripetesti che preferivi un bell'uomo, ma che per me avresti chiuso un occhio. E stringendo in pugni per chi come noi è oppresso dal corpo dei belli, ti sei sistemata e poi hai detto beh che ci importa? Siamo brutti ma abbiamo la musica. Ma si è andata via tesoro, non è così? Hai gettato tutto alle ortiche. Si è andata via e non ti ho mai sentito dire ho bisogno di te, non ho bisogno di te. Non voglio suggerire che ti abbia amata più di altri. Non posso tenere conto di ogni passero accaduto, ma ti ricordo bene, ricordo bene di te al Chelsea Hotel. Tutto qui, non ti penso mai nemmeno troppo. Ecco, Janis Joplin non viene mai nominata, ma è lei quella che era già famosa e che aveva un cuore grande come una leggenda. Il riferimento è a Little Piece of My Heart, una delle canzoni più famose di Janis Joplin. E l'incontro con Janis Joplin come avviene? Avviene in un modo che poteva accadere solo al Chelsea Hotel. Cioè i due, Leonard Cohen e Janis Joplin entrano in un ascensore. E Janis Joplin lo guarda e dice stavo cercando Chris Christopherson, all'epoca più bello ancora di Cohen e musicista anche egli, nonché attore parzialmente. E gli dice sei tu? E lui dice sì, e Leonard Cohen anzi dice sì sono io. E lei sta un po' al gioco, lo guarda e gli dice mi ricordavo fossi più alto. E lui dice sì, non sono stato molto meno ultimamente. E poi i due accettano questo patto. Cohen dirà che lui stava cercando qualcuno come Brigitte Bardot e lei cercava Chris Christopherson. Però appunto, come abbiamo detto prima, Cohen disse che quelli erano anni generosi. E quindi finirono uno nelle braccia dell'altro per un processo che Cohen stesso definì per eliminazione. E passarono solo una notte insieme, una notte d'amore in quel luogo incredibile che era il Chelsea Hotel. Lei al mattina se ne andò e non si rividero più se non parzialmente per qualche occasione. Nessuno immaginò che la canzone fosse per Janis Joplin. Però lui durante un live lo disse apertamente e disse per una cantante morta e la canzone è per Janis Joplin. Però come abbiamo detto lui era un uomo discreto, aveva molta cura delle proprie donne e se ne pentì immediatamente. Anzi, un'intervista disse che se ci fosse un modo per chiedere scusa a un fantasma lui vorrebbe conoscerlo, perché nel frattempo Janis Joplin era già morta. E poi da buone ebreo con un'educazione affidata a una solida madre ebrea disse anche che sua madre Masha si sarebbe molto arrabbiata per una rivalizione del genere, perché nessuno dovrebbe parlare delle proprie amanti in modo così aperto o rivelarne il nome. La canzone è una canzone che è stata composta in due luoghi leggendari tutto ciò che ha a che fare con Leonard Cohen, in qualche modo è leggendario ed è letteratura. Nasce in un bar polinesiano a Miami e finisce ad Asmara, poco prima che cada il trono del regente dell'epoca. Luoghi mitici, luoghi leggendari. Questa canzone diventa un grande classico e Janis Joplin, la grande Janis Joplin, entra nel racconto delle donne di Leonard Cohen. Poi ce ne sono altre, come abbiamo detto, meno famose e altre probabilmente che sono invece immaginarie. Una immaginaria è Jane. Chi è Jane? Jane è la protagonista, anzi una dei tre protagonisti, perché si parla di un vero e proprio triangolo amoroso, della canzone Famous Blue Raincoat, il famoso impermeabile azzurro che è un oggetto iconico della persona alla quale Leonard Cohen si rivolge in questa canzone. E chi è? È qualcuno con cui sua moglie lo ha tradito. Cioè un triangolo. Leonard Cohen disse, succedeva spesso, poteva capitare. Anzi, molto spesso non mi ricordo nemmeno se io fossi il traditore, se fossi chi aveva tradito, se ci fossero davvero questi triangoli, se raccontassi di fantasmi, di qualcosa che ne era accaduto. Però so che c'è stato e mi ha segnato. E Famous Blue Raincoat raccolta di questo è lui e Leonard Cohen in prima persona, che si firmerà proprio al termine, al termine della canzone, scrivendo proprio, dicendo, sinceramente tuo, Leonard Cohen, si rivolge a chi? A qualcuno che chiama my brother, my killer, mio fratello, mio assassino, qualcuno che ha preso la sua donna e gliela ha restituita. Ma non gliela ha restituita sciupata, cambiata. Cambiata sicuramente sì, ma nelle parole di Leonard Cohen soprattutto ha cambiato in meglio. Nel senso che con quella notte d'amore, che è un tradimento che dovrebbe essere una ferita insanabile, in realtà questa donna è stata restituita con un'espressione migliore sul viso. E lui questo sa riconoscerlo. Sa riconoscere che in una storia d'amore probabilmente anche un tradimento può essere qualcosa che ti aiuta. E lo riconosce a questo assassino, a questo fratello, lo ringrazia. Gli dice grazie per avergli regalato la notte più bella. E anzi gli dice se passerai da queste parti ti devi ricordare che noi siamo qui. Se vieni qua per Jane o per me sappi che il tuo nemico, cioè lui stesso, Leonard Cohen, il primo dei tre amanti, starà riposando e la sua donna è libera. Quindi questo è un grande profumo, un grande racconto di quegli anni e Jane, Jane ripetiamo, nella donna, la musa di questo triangolo non è affatto sciupata, ma è lei che in realtà al centro rivitalizza questo amore differente. È una canzone questa che è stata tradotta in Italia magistralmente, come è capitato con altre canzoni di Leonard Cohen da Fabrizio De Andrè. Fabrizio De Andrè nel 1980 la traduce volgendola al femminile per Ornella Vanoni. Ornella Vanoni la regista, la incide in ricetta di donna, dove ci sono altre cover, tra cui una di Paolo Conte. E qui invece è la Vanoni, è la Vanoni che scrive a un'amica presunta a un assassino, in questo caso una traditrice, una sorella assassina, che ha preso il suo uomo e gliel'ha restituito probabilmente migliore. E rivolge lo stesso invito, se passerai qui, vieni a trovarci, non servirà rancore, anzi la ringrazierà sempre per ciò che ha fatto al suo uomo. Non è più New York o il luogo dove era ambientata Famous Blue Record, ma qui è Milano. Non ci potrebbe essere uno scenario migliore, perché la Milano ha dei grandi tradimenti degli anni 70, la Milano borghese che poteva permettersi qualcosa del genere. Allora è bello immaginare De Andrè e la Vanoni che passano per quei diali meravigliosi e così borghesi di Milano, non so, in quei palazzi che di notte sono illuminati da luce gialla, da quella borghesia raccontata soprattutto nel cinema, che sembrava vagamente annoiata, ma forse riusciva a dare un peso maggiore a quel tipo di tradimenti, o forse non di tradimenti, a quel tipo di amore diverso. Sapeva semplicemente che quella consapevolezza borghese, che il corpo probabilmente non è nient'altro che un involucro di possessi perduti. È una cosa da grande borghesia e la canzone lo racconta in maniera esemplare. Poi ci sono altre donne, ci sono donne che sono spettri, veri e propri. C'è una canzone bellissima di Leonora Coni che si chiama Is this what you wanted? Cioè è questo quello che vuoi. E viene messo in contraltare con proprio la donna che è al centro della canzone. E lei dice molto semplicemente è questo che tu vuoi? Vuoi vivere in una casa che sia infestata dallo spettro di noi due? Cioè da un amore che è cambiato, che non potrà mai essere più tale? E allora che cosa bisogna fare? Bisogna lasciarsi, bisogna essere differenti. Non lo racconta, ma riesce a scavare sempre con una capacità che solo Leonora Coni ha, perché soppesa qualsiasi parola. Anzi, Leonora Coni una volta disse che lui avrebbe voluto esprimersi soltanto con una parola, che tutto quello che c'era tra l'inizio e la fine di una frase probabilmente era superfluo e lo spaventava. E questo è chiaramente fortissimo, è una cosa che ha a che fare moltissimo con la poesia. Con la poesia che è la poesia che in realtà diede origine alla canzone centrale del nostro racconto di questa sera, che è Susanne. Però prima di parlare di quella Susanne, parliamo di un'altra Susanne, che è Susanne Elrod. Susanne Elrod è un'altra delle grandi muse del lavoro di Leonard Cohen, ma lo è proprio di fatto nella vita, non è semplicemente nelle canzoni o entra nelle canzoni, ma attenzione, non entra in quella Susanne. È stata la sua compagna, una delle sue compagnie di vita più importanti. Quando la incontra, e qui di nuovo, siamo in questi anni generosi e leggendari, la incontra quando ha semplicemente, è giovanissima, ha 19 anni, è giovanissima, ed è bellissima, e dove la incontra? Nel 1968, incredibilmente, di nuovo in un ascensore. Ora, l'insegnamento che verrebbe da fare è, state molto attenti se prendete un ascensore con Leonard Cohen, almeno avrebbero dovuto dirlo negli anni Sessanta. Lei incontra il Chelsea Hotel, lei stava entrando, lui stava uscendo viceversa da un ascensore, si vedono, si innamorano e diventano amanti subito. Ma fanno una specie di patto non scritto per essere migliori loro stessi insieme, per cui a un certo punto abbandonano il Chelsea Hotel, quel luogo mitico di artisti dove poteva succedere di tutto. E torna la Montreal, città canadese, la città d'origine, la città cantata molto spesso, è fondamentale nella poetica di Leonard Cohen. Poi a un certo punto si ritirano, perché fanno questo? Perché all'epoca la vita di Leonard Cohen non era proprio così salubre, anzi, lui diceva di abbandonare un uso di anfetamine piuttosto pericoloso, che era a base della sua dieta dell'epoca. E si ritirano a un certo punto addirittura in una capanna nel Minnesota, dove non c'è nulla, e raccontano che, insomma, la loro piccola baita, il loro rifugio d'amore e di poesia, di arte, era contornata da pavoni selvatici, da ruscelli, si fermavano a guardare il tramonto all'alba. Lentalmente e molto poeticamente si ripuliscono. E poi viaggiano, viaggiano e si muovono, come sempre avevano fatto Leonard Cohen, che in tutta la sua vita è andato e tornato dal suo ritiro migliore, quello dell'isola di Idra in Grecia. Hanno due figli. Hanno due figli. Il primo figlio maschio, Adam, che riceverà a 44 anni il compito incredibile di produrre quello che sarà poi l'ultimo disco di Leonard Cohen, You Want It Darker. Anche lui Adam, musicista. È una figlia. È una figlia che si chiama Lorca, in omaggio al poeta spagnolo. Lorca, fra l'altro, diverrà la madre surrogata di Rufus Wainwright, altro musicista e cantante fondamentale dei nostri anni, appartenente anche lui a una famiglia reale di musicisti, cioè Wainwright e McGarrigall. La loro storia d'amore va avanti, ma a un certo punto termina. Suzanne, Suzanne Elrod, prende i figli e va a vivere vicino ad Avignon, in Francia. Come molti, a Mori si inasprisce e Suzanne accuserà Leonard Cohen di non essere stato fedele a quelli che erano i loro patti, non tanto i patti d'amore che si rompevano e si incollavano in qualche misura in quegli anni, ma per una questione di alimenti, di presenza. E lui invece l'accuserà di essere esosa, di dire che la sua vita nel frattempo si spostava a Miami, era molto differente da quella che invece voleva lui, che ripetiamo era molto fedele al suo essere essenziale. Poche cose, una camera da letto, una chitarra e una penna per poter scrivere le proprie poesie. E proprio nelle poesie, perché di questo avevamo detto, dalla poesia nasce Suzanne. Suzanne che non è una canzone che parla di Suzanne Elrod, la compagna e madre dei suoi figli, ma di un'altra Suzanne di cui ora parleremo. Nasce da una poesia composta nel 1967 e diventa lentamente una canzone. E forse la canzone che di più porta Leonard Cohen dalla semplice parola scritta e dalla poesia a quella che diventerà poi ciò che lo renderà famosissimo. C'è il fatto di diventare un cantautore, anzi forse il cantautore che più ha saputo coniugare poesia e letteratura. È una canzone su una donna, ma è soprattutto una canzone anche su una città, su Montreal. E direi che anche qui vale la pena leggere una parte, se non interamente, il testo. Un testo anche in questo caso che beneficia della traduzione di Fabrizio De Andrè, che inciderà Suzanne in canzone, un suo album del 1974. Questo testimonierà anche quanto sia stato fondamentale per l'opera di Fabrizio De Andrè la poetica e il modo di stare al mondo, l'importanza di ogni singola parola dell'opera di Leonard Cohen. E questo è il testo di Suzanne che dice Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto. E ora ascolti a andare le barche, ora vuoi dormirle accanto. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei. E lei ti offre il tè e le arance che hai portato dalla Cina. E proprio mentre stai per dirle che non hai niente da offrirle, lei è già sulla tua onda. E fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente, perché sai che lei ha toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno. E poi quando fu sicuro che soltanto gli annegati fosse dato di vederlo, disse, siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano abbandonato, nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiarli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente. Forse avrai fiducia in lui, perché ti ha toccato il corpo con la mente. E Susanne ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piumi, presi in qualche dormitorio. Il sole scende come miele su di lei, donna del porto, e ti indica i colori tra la spazzatura e i fiori. Scopri eroi tra le alghe marce. E i bambini nel mattino che ti sporgono nell'amore, e così faranno sempre. E Susanne regge lo specchio. E poi, ancora finale, e tu vuoi viaggiarli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente. Qui è la frase fondamentale, perché ti ha toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. Ma chi è la Susanne che è al centro di questa canzone? E Susanne Verdal. Susanne Verdal era una ballerina all'epoca sposata ad Armand Vaillancourt, che è uno scultore molto famoso di Montreal. I due sono amanti a cui tutti guardano nella scena artistica e bohemienne di Montreal. Tutti, si dice, sono innamorati di Susanne Verdal e tutte sono innamorate di Armand Vaillancourt. I due girano, sono la coppia di riferimento. Quando andano nei posti, tutti si girano a guardarli. E Leonard Condi gira con loro. Racconta che quello era un periodo, appunto, degli anni Sessanti, in cui si girava con i maglioni neri a collo alto. Anche su lui, Leonard Cohen, ha sempre indossato un vestito elegante, perché lui diceva che solo in quel modo lui era stato abituato da una tradizione fin da ragazzino ad essere vestito sempre con camicia, gilet e elegante. Insomma, formano un gruppo di amici che va in giro per la città, vanno a ballare jazz, vanno in locali famosi di Montria come Levi e Mulen. Ballano, fumano, parlano di poesia, parlano di filosofia, di Dio, della religione ebraica, di tutto quanto. Sono i grandi giorni dell'arte. E sicuramente Leonard Cohen è entrato da Susanne e sicuramente Susanne è attratta da Leonard. Però non hanno nessun rapporto, semplicemente sono amici, vanno insieme. E poi più avanti Susanne divorzia, cioè si separa, anzi, da suo marito. E con la figlia va a vivere in una casa sul porto, che è la casa che viene raccontata proprio nella canzone. Ed è una vecchia casa, una casa sul fiume, il fiume St. Lawrence, una casa che è fatta di legno di mogano, scricchiolante, una casa che Susanne stessa definirà una casa sghemba, stramba, che cadeva a pezzi. Però estremamente affascinante. E allora Leonard Cohen va a trovarla e lei ha questo piccolo rituale raccontato nella canzone. Accende tante candele perché vuole creare una situazione quasi spirituale e gli offre un tè, un tè che si chiama Constant Comment, che ha un sapore vago d'arance, esattamente quelle raccontate nella canzone. E allora voi dovete immaginare queste due persone, questi due giovani artisti così affascinanti, per usare un aggettivo tipico dell'epa, so cool, no? Estremamente... sono dei figli, si direbbe oggi. E sono lì in questa casa dove si sente il rumore del fiume, dove lei dice, dove Susanne dice io andavo perché mi piaceva sentire le barche che passavano, la risacca del fiume, e parlano e tutto, e semplicemente si guardano e toccano il proprio corpo perfetto con la mente. Tutti e due ammetteranno che non avranno... il loro amore non sfocerà mai in una congiunzione carnale, non ci sarà mai un rapporto vero fisico fra i due. Ma entrambi diranno che ci sarà molto di più, perché forse quel rapporto fisico che è stato alla base di... che è alla base dell'amore di tantissimi degli amori ovviamente di Leonard Cohen, esplicito se vogliamo nel racconto di Chelsea Hotel con Janis Joplin, qui invece è a un livello più spirituale. Che Leonard Cohen disse forse per questo ancora più profondo. Noi spesso comunicavamo con la mente ed era ovvio che eravamo attratti, era ovvio che avremmo voluto congiungersi, ma non successe mai. Lui racconta che andavano in giro per Montreal, questa città così amata, e molto spesso stavano in silenzio. Tutto il rumore che c'era in giro è semplicemente quello dei tacchi di Suzanne e quello degli stivali di Leonard Cohen. E poi, abbiamo detto prima, è una canzone che parla di Montreal e lui lo dice, lo dice esplicitamente. Questa canzone volevo che parlassero di quello che io vedevo a Montreal, appunto del porto, della chiesa che domina, la chiesa che è fondamentale per tutti quelli che poi dal fiume si spostano al mare, c'è un Gesù Cristo che guarda da sopra, ci sono immagini sacre che da sempre caratterizzano l'opera di Leonard Cohen. Il sacro, il profano, il carnale e l'aspirazione. E quindi quelle luci, quella sensazione di fiume e tutto, viene trasportato anche in una dimensione che non è più fisica, ma è semplicemente spirituale, di due persone che si amano, che si rispettano, ma che non si avvicinano mai così tanto col fisico quanto l'hanno fatto con la mente. La canzone prima di diventare la grande canzone di Leonard Cohen diventerà la canzone di Judy Collins, una cantante, una folk singer all'epoca più famosa di Leonard Cohen, che da qui debuterà e diventerà poi più importante di tutti. E allora la manager Mary Martin di Leonard Cohen invita Leonard Cohen ad andare a cantarla direttamente a casa di Judy Collins. Judy Collins racconterà che in realtà questo bellissimo ed elegante uomo che era Leonard Cohen all'epoca, la prima sera non disse quasi nulla, a un certo punto con un mezzo sorriso disse sì, sono anch'io molto imbarazzato. Poi invece il giorno dopo Andoelle cantò diverse canzoni, tra cui Judy Collins, la incise e divenne una canzone famosissima. Nella canzone abbiamo sentito si parlava di piume, stoffe. Suzanne, la Suzanne centrale della canzone, Suzanne Verdale racconterà che in effetti lei già all'epoca poi nella vita dimostrò grande attenzione ai temi ambientalistici e aveva il senso del recupero, che era un senso di recupero estetico bohemiano, cioè andava all'esercito della salvezza, comprava dei vestiti e li rimetteva insieme contribuendo alla sua grande immagine. I due non si videro più, anzi un po' amaramente Suzanne disse che non più fu possibile avvicinarsi a Leonard Cohen, non così tanto come l'avevano fatto allora, ma anche in una maniera se volete più semplice, perché Leonard Cohen diventa la raggiunse e lui le disse quanto era stato felice che lei le avesse consentito di cantare questa canzone. Ma poi si è perso, ci fu i momenti in cui probabilmente Cohen si disse non la riconobbe neanche più, lui una volta provò a danzare per lei, ma questo non è mai stato appurato. C'è una piccola storia anche incredibile dietro questa canzone, persi immediatamente i diritti Leonard Cohen all'epoca, fu letteralmente fregato da una delle persone che gli stavano intorno, Chase, un tipo che gli fece firmare un foglio subito dopo dicendogli guarda è solo una cessione temporanea dei diritti, mentre invece fu una cessione definitiva. Ma lui firmò, firmò e da quel momento realizzò che non aveva diritti su quella canzone e in una certa misura disse che andava anche bene così, perché quella canzone era talmente intima. Poi anni dopo cercò di riacquisirli, si trovò con Chase in una stanza e Chase ebbe la faccia tosta di chiedergli quanto mi offri per questa canzone. E Leonard Cohen, quell'uomo così distinto e impeccabile, gli disse ti offro un dollaro, figlio di puttana. E allora Chase abbandonò la stanza, ma poi più tardi, nel 1987, i due poi si rimisero a posto. Rimisero a posto l'aspetto, se vogliamo, più fiscale della faccenda e Cohen li acquisì. E questa è la storia di Susanne, una delle grandi, della storia delle donne, della sua poetica. E prima di chiudere, salutarvi, vorrei citare una delle ultime, che è una delle sue canzoni, se vogliamo, più belle, che è So Long Marian. E chi è Marian? Marian Ilen, eccola qua, la vedete in questa copertina, in questa bellissima modella norvegese, che rappresenta forse la musa di Leonard Cohen, con cui passò un sacco di tempo nell'isola di Idra, il ritiro, è uscito un film bellissimo, si chiama Marian Leon e Leonard Words of Love. E con Marian evocate nelle sue canzoni, che era la sua musa ispiratrice quando si svegliavano a Idra, in questa bellissima isola dove non c'era neanche la luce elettrica. La sera si potevano vedere solo le candele, quelle candele di cui abbiamo parlato anche in Susanne. Ecco, lei è stata la sua musa ispiratrice per tempo, ma gli amori andavano, finivano, soprattutto in quest'isola incredibile, piena di artisti dove ci si abbandonava e ci si riuniva come fosse un colpo d'ali. Però perché la citiamo? Perché alla fine, quando Leonard Cohen fa i conti con la propria vita, fa i conti anche con Marian, che aveva lasciato un amore terminato, però verso la fine Jean-Christian Mollestad, che è un artista, amico di Marian, capisce che Marian sta per morire. E allora si mette in contatto con Leonard Cohen per dirglielo. E Leonard Cohen manda una lettera, le scrive, una me, dicendo io e te, i nostri corpi ormai sono andati, siamo vecchi, e io mi sento così vicino a te che se allungasti la mano qua dove sono potrei toccare la tua. E ti ringrazio per tutto, sei stato un amore, spero che ci rivedremo, ci rivedremo lungo la strada. Marian ricevette queste parole che si dice siano state anche edulcorate rispetto alla versione originale di Cohen, ma sono questo, sono questo un commiato, un chiamato fra due grandi amanti, un commiato anche a dei grandi tempi perduti. Marian perse conoscenza poco dopo aver ricevuto le parole di Cohen e chiese soltanto di sentire Bird on a Wire, una canzone contenuta nell'album di Cohen di cui lei fu muse ispiratrice, e poi perse conoscenza. Quello stesso anno nel 2016, il 7 novembre, morì anche Leonard Cohen, che quindi raggiunse Marian e tutte le grandi donne che sono state grandi amori della sua vita. E quindi siamo al termine di questo racconto, nessuno di tutte le persone che abbiamo citato è più presente, nessuno è più con noi, però molto banalmente, ma in maniera estremamente forte, ci sono le canzoni, c'è il racconto epico, meraviglioso e letterario di ciò che sono stati, del segno che hanno lasciato alla vita. E forse alla fine, la cosa più importante, l'unica cosa che ci sopravvive è l'arte, e l'arte di Leonard Cohen è sopraffina e tra le migliori, che quegli anni meravigliosi che sono stati gli anni del rock, del cantautorato elegante ci possono restituire. E quindi come accomiatarsi se non ricitando una delle canzoni di cui abbiamo parlato questa sera di Chelsea Hotel, cioè dicendo, ok, we are ugly, but we have the music. Siamo brutti, non siamo belli, siamo imperfetti, ma abbiamo la musica. E se dalla nostra parte abbiamo quella di Leonard Cohen, sicuramente saremo un po' più belli. Grazie.